A máximo di calcio d'eccellenza Oggi facciamo il punto sul campionato di calcio d'eccellenza perché sono state recuperate le gare della quinta giornata di ritorno non disputate per neve lo scorso 22 gennaio in questo turno infrasettimanale rallenta la capolista Martin Sicuro e si ferma bruscamente l'inseguitrice Nero Stellati. Il Martin Sicuro non è andato oltre il 2-2 nella trasferta con la Virtus Teramo. Non ne approfittano i Nero Stellati che hanno perso a Cupello per 2-0. Il Paterno rimane momentaneamente in terza posizione in quanto è stata l'unica squadra a non giocare oggi perché impegnata nella semifinale della Coppa Italia persa contro il Troina per 1-0. Torna al successo il Francavilla che batte la Mitterlina per 1-0 con soli del posto in zona play-off l'Angolana che ha sconfitto il Moro d'Oro per 3-1. Resta ridosso l'Albadriatica che ha battuto per 1-0 il Sambuceto nello scontro diretto. In classifica comanda il Martin Sicuro a 61 a due lunghezze in meno e non più ad una i Nero Stellati con 59 punti poi abbiamo Paterno 57, Francavilla ed Angolana 55. E parliamo adesso della gara persa dai Nero Stellati a Cupello per 2-0. La squadra di Di Marzio, priva dello squalificato giallonardo, sperava di portare a casa un risultato positivo ma si è dovuta arrendere. Almeno un pareggio avrebbe consentito di rimanere a meno uno dal Martin Sicuro ma non è stato così. Il Cupello si è aggiudicato il match con un gol per tempo. Al 39esimo del primo tempo c'è stato il vantaggio con Monachetti il gol del definitivo 2-0 a 5 minuti dal termine con Selva Allegra. I Nero Stellati hanno terminato il match in 10 uomini per l'espulsione di Del Gizzi. Il Cupello, pur già matematicamente salvo, non ha lasciato alcun scampo agli avversari battendo i Nero Stellati con l'identico risultato dell'andata. Mister Di Marzio, un rammarico perché sentendo gli altri campi oggi poteva essere la volta buona per il sorpasso invece non è stato così. Ma purtroppo no perché purtroppo gli episodi oggi ci hanno condannato abbiamo disputato un primo tempo nella metà campo del Cupello non siamo riusciti a trovare lo spunto e anche però se qualche decisione dentro l'area non ci è piaciuta però abbiamo subito il gol sull'unico di rimporto del Cupello nel secondo tempo poi è normale che è diventata un'altra partita abbiamo avuto una buona occasione con Mosconi un'altra con Palompizio non siamo riusciti a rimetterla in pareggio poi è normale che avendo più giocatori anteriori ci siamo aperti e a quel punto il risultato pur di pareggiare abbiamo perso un po' le distanze concedendo qualche contropiede di troppo. Mister Di Francesco oggi bellissima vittoria del Cupello che non ha tralasciato nulla in questa gara dominata dall'inizio alla fine i nerostellati oggi hanno fatto veramente poco. Sì in effetti hai fatto una risamina esatta della situazione i ragazzi sono stati bravissimi non abbiamo concesso nulla per cui non c'è nulla da rimproverare la partita è stata giocata non capisco quell'atteggiamento come se noi dovessimo lasciare andare noi giochiamo la nostra partita è giusto che lo sport e il calcio sia onorato tra l'altro non avevamo neanche la salvezza matematica quindi è normale che ci giochiamo la partita nel modo in cui il calcio richiede quindi mi sembra corretto che questo accada. Ah 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 Grazie a tutti.